Bentornati, oggi parliamo di Georges Prêtre e per parlarvi di Georges Prêtre comincio a parlarvi di due direttori che apparentemente con lui hanno poca che fare anzi che in effetti con lui hanno poca che fare cioè Furvengler e Vali Ghergiev perché vi parlo di questi altri due direttori prima di affrontare quello che in realtà è l'argomento della puntata di oggi? perché esistono dei direttori che non hanno nella chiarezza del gesto il proprio punto di forza Furvengler è uno di questi e sono tutti direttori sulla cui capacità e addirittura proprio grandezza di musicista o di musicisti nessuno assolutamente mette il minimo dubbio io non mi ricordo di aver trovato una persona che mi ha detto che Furvengler non fosse un grandissimo musicista pur se da punti di vista direttoriale quello che voleva lo sapeva lui questo gesto sempre molto largo, molto isterico spesso incomprensibile, anzi in massima parte incomprensibile e Ghergiev con le sue manine così e spesso lo stuzzicadenti in mano è un po' la stessa cosa tant'è vero che spesso e volentieri no, forse non dico spesso ma insomma a volte è successo che con alcune orchestre in particolare ricordo il problema che ebbe con la New York Philharmonic ci furono delle incomprensioni diciamo così proprio dal punto di vista gestuale eppure nessuno anche lì mette in discussione il valore del musicista Ghergiev allora perché vi ho parlato di questi due esempi? perché ci sono appunto dei direttori che hanno spesso un gesto non particolarmente evidente, chiaro Pretre per certi versi apparteneva a questa categoria spesso e volentieri dirigeva senza la bacchetta e questo di per sé non sarebbe un grande problema però raramente le sue indicazioni gestuali corrispondevano alla scansione ritmica che cosa voglio dire? che lui è uno di quei direttori come anche Osawa se ci pensate che dirigeva la musica, non dirigeva la scansione ritmica perché su questa cosa qui bisognerebbe un attimo capirsi perché dirigere la musica, quindi dirigere la frase musicale la dinamica musicale, il senso musicale spesso e volentieri il non detto musicale cioè fare emergere tramite le prove quello che è il significato recondito di una composizione spesso e volentieri dicevo questa cosa non accade molte volte ci sono tanti direttori che dirigono con un braccio chiarissimo, fermo e inequivocabile il ritmo della musica, la scansione ritmica della musica ma non necessariamente la musica stessa e allora voi potreste dire come faceva allora Furvengler a eseguire anche partiture molto difficili se il gesto era poco chiaro, l'abbiamo detto tante volte la risposta è semplicissima, facendo tante 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 prove Pretre spesso e volentieri dirigeva invece appunto con le mani, senza la bacchetta e senza preoccuparsi minimamente della scansione ritmica però non è che facesse così perché a contare Furvengler non avesse la tecnica giusta cosa voglio dire, ai tempi di Furvengler non c'era una vera e propria tecnica direttoriale c'era una base di tecnica ma sicuramente non era stata ancora affinata come lo è stata poi diciamo nella seconda metà del secolo scorso e ci stava quindi che molti direttori, l'abbiamo detto altre volte anche parlando di Toscanini, non avessero una vera e propria tecnica musicale o quantomeno non avesse una tecnica paragonabile e accettabile secondo i parametri di oggi che poi questo facesse o non facesse del direttore, un grande direttore è un altro discorso che non c'entra evidentemente niente Pretre quando faceva questa cosa? Lo faceva quando se lo poteva permettere proprio ossia quando dirigeva musiche tipo Le Prelude a Premi di Danfond, di Debussy o insomma musiche impressioniste e tutto quel tipo di repertorio che non ha necessariamente nella scansione ritmica la sua base ma ce l'ha più sull'effetto, sul colore, sul timbro, sull'impasto sonoro sulla concertazione che a quel punto diventava veramente veramente importante e su questo Pretre era un grandissimo musicista dopodiché quando c'era necessità di prendere la bacchetta e sbacchettare come vedremo più avanti nel video lo faceva senza alcun tipo di problemi perché non lo faceva perché non ne fosse capace lo faceva tutte le volte che poteva evitare di farlo appunto per poter dirigere la musica e non dirigere la scansione ritmica la base, il motore ritmico di una composizione quindi parlando di Pretre ho chiesto anche ad alcuni amici e colleghi che hanno collaborato con lui e tutti mi hanno parlato benissimo di questa persona che benché fosse questo mone con il naso un po' da pugile sembrava quasi appunto un pugile che chissà perché dal ring era capitato su un podio poi in realtà era detta di tutti una persona estremamente cordiale, piacevole e soprattutto un gran musicista ho fatto qualche ricerca non la sapevo questa cosa e apparentemente lui non ha mai completato un vero e proprio corso di studi in conservatorio lui aveva studiato tromba e la cosa gli era venuta utile perché negli anni della guerra lui era del 24 suonando la tromba in diversi locali si era guadagnato il pane sembra che abbia suonato anche con Glenn Miller però insomma questa cosa come dire era stato l'appunto di partenza lui poi aveva anche delle veleità di compositore poi alla fine cominciò a lavorare tanto come direttore orchestra e da lì partì una carriera che durò praticamente 70 anni lui è scomparso nel 17 era del 24 aveva iniziato a dirigere subito dopo la guerra e quindi capite fate i calcoli e capite quanto è stata longeva la sua carriera che lo ha portato in tutti i teatri più grossi del mondo quindi è partito ovviamente dalla Francia e poi ha fatto il Covent Garden a Vienna era stato tantissimi anni aveva fatto ovviamente il Metropolitan aveva fatto la Scala e questa cosa è abbastanza curiosa perché benché abbia diretto tantissimo opera lirica ma tanta chissà perché nell'immaginario collettivo lui aveva più come dire la nomea di essere un direttore sinfonico cosa ripeto storicamente falsa perché lui aveva forse diretto molta più opera che è sinfonico in ogni caso li vediamo bene entrambi gli ambiti per cui adesso vediamo una serie di video che ho trovato facendo un po' di ricerche li commentiamo e poi ci troviamo qui per le conclusioni ecco qui lo vedete in uno dei tantissimi concerti che aveva fatto in Francia anche all'Opera de Paris e qui vedete la dimostrazione dell'ottimo rapporto che aveva con gli orchestra cioè tanti direttori spesso e volentieri hanno un pessimo rapporto col pubblico e boh per certi versi non so se ci potrebbe anche stare lui invece aveva un rapporto molto cordiale non solo con le violiniste carine giovani e carine ma mediamente con tutti con tutti i musicisti qui lo vedete sono giovane qui parecchi anni dopo in cui racconta fondamentalmente il fatto appunto che lui era partito da Francia e poi era aveva avuto la chance diceva lui la fortuna di poter dirigere in tutto il mondo e qui lo vediamo con Maria Callas poi insomma in tanti dicono era il direttore preferito da Maria Callas in realtà credo che Maria Callas abbia avuto almeno tre o quattro direttori preferiti perché c'è chi dice che era Serafini quello vedete come dire alla freni qui con Pavarotti insomma quindi insomma però sicuramente ecco qui nelle sue un Faust fatto al Metropolitan dopo di che invece dopo essere stato al Metropolitan e pur avendo diretto diverse volte in Italia venne finalmente chiamato in Scala poi ebbe una lunga collaborazione con la scala anche con la filarmonia quindi non solo col teatro d'opera ma anche con la filarmonica e quindi con la sinfonica qui lo vedete in una delle sue realizzazioni cioè lui ci teneva lui insomma che aveva vissuto quasi 50 anni a Vienna non aveva mai diretto il concetto di Capodanno gli accadde a fine carriera a fine carriera nel senso che aveva già più di 80 anni non perché la carriera fosse in fase discendente tutt'altro lui non ha mai avuto in realtà una fase discendente ha avuto solo una fase di crescita e che non è mai non è mai mancata ecco qui vedete qui sta dirigendo la prima sinfonia di Mahler ecco qui vedete qui siamo in prova naturalmente però vedete come quando non c'è la necessità di un di battere il tempo come si dice in gergo ma è sufficiente dare le intenzioni basta uno sguardo basta un accenno con la mano soprattutto se la prova sta andando esattamente come come vogliamo insomma ecco qui non è necessario sbracciarsi non è necessario l'orchestra conosce bene il tempo conosce bene il pezzo insomma quindi l'orchestra nella maggior parte dei casi non ha bisogno che gli si dia la scansione ritmica non ha bisogno che gli si batta il tempo perché il pezzo lo conoscono perfettamente però ha bisogno tra virgolette che gli si dia una lettura quantomeno che sia una lettura univoca qui lo vedete già anche qui aveva anche più più di 80 anni e faceva vedere insomma le sue partiture con le proprie indicazioni quindi è una partitura quasi monoscritta tra l'altro tra l'altro questo qui stava preparando una produzione lirica evidentemente ecco qui con Poulenc con cui ebbe decisamente un rapporto privilegiato aveva fatto diverse prime esecuzioni quindi di musiche di musiche di Poulenc in cui appunto c'era poi un rapporto anche proprio personale oltre che professionale l'ACD National Music insomma di cui era ovviamente membro ovviamente che fu un po' come dire il riconoscimento di una vita di grandi successi l'ennesima norma ha fatto tantissime repliche di Norma anche con Maria Callas evidentemente insomma che spesso e volentieri ne esaltava le capacità e ne esaltava il fatto che si trovassero particolarmente bene perché diceva la Callas diceva fondamentalmente parliamo tutti e due la stessa lingua cioè la lingua della musica peraltro tutti e due oltre alla lingua della musica parlavano tante lingue Preto parlava ovviamente francese ma anche inglese parlava molto bene tedesco l'altro me era stato tanti anni a Vienna e parlava italiano insomma ecco qui vedete il Covent Garden che dirige nel 64 la Carmen proprio con con Maria Callas vedete dove non c'è necessità della sconsore ritmica non la dava dove c'era la dava come come dovrebbe essere come dovrebbero fare tutti i direttori che spesso e volentieri invece si sbracciano inutilmente per non si capisce bene per qualche ragione se non per spesso farsi un po' di di coreografia cioè in questo pezzo quando il motore è partito non è necessario sbracciarsi più di tanto e lui che qui insomma nel 64 aveva 40 anni lo sapeva perfettamente insomma eccolo con con Maria Callas ecco qui lo vedete parecchi anni dopo con Roberto Alagna due star francesi che nonostante insomma la differenza di età è evidentemente importante si erano trovati molto bene insomma avevano un ottimo rapporto anche personale qui lo vediamo nel 79 ha delle prove del Faust con con Mirella Freni e qui vedete l'importanza esattamente come quando c'è un'opera italiana l'importanza di avere un direttore italiano che possa come vuol dire correggere i cantanti stranieri ma diciamo dar la giusta il giusto indirizzo e cantanti stranieri quindi tutto dal punto di storia edizione che è la cosa più importante ma anche spesso dalle intenzioni dallo stile e così via insomma qui con Mirella Freni insomma dalle indicazioni ecco qui lo vedete da ragazzino nel 41 pensate quindi aveva 17 anni se non ho sbagliato i calcoli era del 24 quindi ha 17 anni quando suonava la tromba e come detto insomma negli anni della guerra sbarcava a lunario suonando in vari locali e qui insomma ovviamente si sa che pur avendo eseguito un repertorio amplissimo la musica francese era veramente il suo il suo forte qui vedete il bollero e tra l'altro l'ultimissimo concerto che fece in scala fu proprio il bollero di Ravel insomma a 90 anni o giù di lì e io purtroppo non assistetti a quella a quella rappresentazione ma insomma tutti me ne parlarono in maniera entusiastica per cui che dire in conclusione di pretre che è stato un direttore incredibilmente moderno perché è nato in una fase in cui i direttori come detto non avevano una tecnica perché non esisteva quantomeno esisteva una tecnica direttoriale abbastanza grezza abbastanza minimale e poi ovviamente i grandi musicisti non avevano bisogno di sbracciarsi più di tanto per ottenere risultati strepitosi però è stato un direttore incredibilmente moderno perché è stato uno dei primi che ha saputo pur avendola superare la tecnica perché come ha detto tanti musicisti che non avevano una tecnica direttoriale sopperivano con la grande musicalità lui aveva una bella tecnica direttoriale ma al contempo aveva anche una grande musicalità e quindi come dire alternava un gesto chiaro ed evidente ed efficace a dei gesti soprattutto quando faceva la musica di Debussy per esempio in cui non necessariamente batteva il tempo qui vedete per esempio una parte del preludo premio di Don Phon nel quale evidentemente battere il tempo è una cosa che non gli interessa perché l'orchestra conosce già molto bene il pezzo e quindi lo scopo del direttore è quello di dirigere la musica e non di contare quante battute ci sono in quel pezzo bene ringrazio Massimiliano per la realizzazione di questo video se non l'avete già fatto vi invito a iscrivervi cliccando qua sopra e immagino lo sappiate da qualche tempo c'è anche la possibilità di abbonarvi al canale troverete giù in descrizione il tasto per abbonarvi se ne avete piacere per avere dei contenuti extra ed esclusivi dedicati solo agli abbonati scrivete nei commenti cosa ne pensate di George Pratt e se avete qualche desiderio di vedere magari una reaction su qualcosa in particolare che ha fatto e noi ci vediamo al prossimo video non mancate grazie a tutti